Il risultato di Giorgio Il risultato di Giorgio La cintura di Giorgio Inizia a riproporare Sì, e ho fatto un'altra cosa Sì, ma io ho fatto un'altra cosa Dice La fine è il mio sbaglio Mi ha interessato se mi vuole La mia madre ha fatto che la mia madre si è andata, che se chiede niente come regiava e cercava. E lui ha superato il giusto, posso? Stalin. Hai un documento? 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 Si durante la prima volta avevo bath. Ma самой data Qara? Sei che, come se diceva? Usc, dura dove va. Conoro. Comment so? Tu lo deviare meglio, sia chaperta che la mia chiaccione oltica, e non lo scando rivali, Tu hai guidato in Orsi Filii, e Orsi Filii gui di me suoi figli, e suoi figli, e suoi figli gui di me la loro figli, il destino fosse così amore. Hey Oscar! 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 Grazie a tutti!